Buonasera Patrico, sì, pubblico, mamma mia, pubblico, pubblico, spettacolo, attenzione, salto della morte, attenzione pubblico, salto della morte, ripetizione dei test, test. Ma più di un momento pubblico, più di un momento, attenzione pubblico, le salto della morte pubblico, mamma mia, attenzione, attenzione tutti, le salto della morte pubblico, calmo, 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 no you, no you, sì, eh, salto della morte. Beh, va sì. No, 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 pubblico, pubblico, salto della morte, solo una morte. Non, pubblico, entusiaste, eh, exemple. Ok, 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 no problemo, eh, momento, momento, spettacolo. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Spettacolo, momento, ok, ok. è il travers non Patrick non c'è il salto de la morte è il salto di la morte un momento un momento ok 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 Salto de la muerte 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 Salto de la muerte